buongiorno da Gianluca e da mbstore.com oggi voglio spiegarti una cosa molto semplice che può però districarti nella scelta delle lampade a risparmio energetico piuttosto che a led la prima domanda che potrebbero farti è se vuoi una lampada E14 o E27 cioè attacco piccolo o attacco grande questi sono i due attacchi che ci sono in commercio in italia più utilizzati ce ne sono anche altri ma questi sono i due più comuni e sono le 27 cioè l'attacco grande e le 14 cioè l'attacco piccolo un'altra domanda che potrebbero farti quando vai ad acquistare una lampada a risparmio piuttosto che una lampada a led è di che colore la vuoi di che tonalità di luce la preferisci esistono infatti da 2700 gradi kelvin cioè luce calda quella un po più giallina c'è da 4000 gradi kelvin luce naturale e c'è la luce bianchissima 6500 gradi kelvin adesso te le mostro tutte e tre questa è una lampada a luce calda cioè 2700 gradi kelvin questa invece è una lampada che 4000 gradi kelvin a luce naturale e infine abbiamo la lampada a luce fredda 6500 gradi kelvin se hai altri dubbi o domande puoi contattarmi sulla casella di posta elettronica info-mbstore.com oppure seguirmi sulla pagina facebook o su twitter o su google plus un saluto da gianluca e da mb store.com